Ora parliamo di entropia, che è un concetto diverso. L'entropia viene definita come una funzione che descrive lo stato di ordine di un sistema. Immaginiamo un contenitore con all'interno una sostanza dello stato solido, le sue particelle sono ordinate in una fase cristallina. La stessa situazione, però a temperatura maggiore, lo stato solido non esiste più, l'oggetto è evaporato, e le particelle si trovano diffuse dentro il contenitore. Nel primo caso abbiamo un maggior ordine, quindi una minore entropia, perché le particelle hanno minore capacità di movimento. Mentre nel secondo caso le particelle sono molto più diffuse e il sistema è molto più disordinato, e quindi si dice che c'è una grande entropia. Si finisce questo anche come grado di libertà del sistema, ovvero in quanti modi le particelle possono variare la loro posizione. Ovviamente allo stato solido hanno pochissimi gradi di libertà, invece allo stato cassoso ne hanno molta di più. Quindi allo stato solido c'è una bassa entropia, allo stato cassoso c'è un'alta entropia. L'entropia, definita con S maiuscola, è una funzione di stato che misura il grado di disordine di un sistema, o meglio, la libertà di movimento delle particelle che compongono il sistema. A differenza dell'entalpia, l'entropia dipende anche dall'ambiente esterno. Con il passare del tempo, l'entropia complessiva del sistema e dell'ambiente aumentano sempre. Qui c'è la famosa legge della termodinamica che dice che l'entropia aumenta sempre, e definisce la freccia del tempo. Abbiamo visto questo concetto nella video-lezione di termodinamica del mio corso di fisica. Quindi la variazione di entropia del sistema più quella dell'ambiente è sempre maggiore di zero. Se si va avanti nel tempo, quindi se passa il tempo, l'entropia aumenta sempre, e per questo l'aumento dell'entropia definisce la linea del tempo dal passato verso il futuro. Con il passare del tempo, l'universo diventa sempre più disordinato. Andiamo avanti. E questo, ovviamente, lo possiamo interpretare in chimica con la spontaneità di una reazione chimica. Il secondo principio della termodinamica dice che una trasformazione spontanea avviene sempre con un aumento dell'entropia dell'universo. Qui immaginiamo quando la forma allo stato solido, gli atomi sono ordinati lungo una struttura cristallina, in questo caso l'entropia è zero, quindi nel reticolo cristallino il disordine è nullo, perché il reticolo cristallino è il massimo dell'ordine. L'entropia standard, S col gradino qui, si riferisce alla quantità di entropia che caratterizza una mole di una data sostanza a 25 gradi centigradi alla pressione di atmosfera, quindi a condizioni standard. È ovvio che la stessa sostanza ha diversa entropia a diverse temperature, quindi una sostanza allo stato solido avrà un'entropia diversa della stessa sostanza allo stato liquido, perché le sue particelle avranno gradi di libertà diversi. E qui vediamo una tabella che sintetizza alcuni di questi valori. Facciamo questo esercizio, calcolare la variazione di entropia per la reazione di formazione dell'ammoniaca, sapendo questa reazione che l'ho già bilanciata per facilità, quindi l'azoto N2 in fase gassosa più 3H2, sempre in fase gassosa, mi origina due molecole di NH3, sempre in fase gassosa, quindi come detto l'ho bilanciata per rendere tutto più semplice. Si prendono i valori di entropia dalla tabella precedente, quindi ovviamente il testo cederà sempre i valori. Nel caso dell'idrogeno, come vedete qua, è di 130,57 Joule fratto Kelvin per moli. Nel caso dell'azoto, N2 sempre in fase gassosa, è 191,50 Joule fratto Kelvin per moli. E ancora, nel caso dell'ammoniaca, sempre in fase gassosa, NH3, 192,34 Joule fratto Kelvin per moli. E quindi vedete che possiamo ricavarci questi dati da tabelle di bibliografia. Andiamo avanti. Ora calcoliamo la variazione di entropia dei prodotti e degli agenti considerando i loro rapporti stechiometrici, questo 3, questo 2 e qui non c'è niente, è 1. Allora, sommatoria variazione di entropia dei prodotti, devo fare due volte, perché qui le moli sono due per l'ammoniaca, due moli per l'entropia di NH3 in fase gassosa. Abbiamo visto che dalla tabella era 192,34, lo moltiplico per 2 e ottengo 384,68 Joule fratto Kelvin. Adesso devo fare la stessa cosa per i reagenti, visto che sono due, faccio la sommatoria, quindi una mole per N, perché qui c'è 1, più 3 moli per H, perché qui c'è un 3, e quindi vado a sostituire i valori e trovo 1 per 191,50 Joule fratto Kelvin per moli, più 3 per 130,57 Joule fratto Kelvin per moli. Ottengo 583,21 Joule fratto Kelvin. Ora devo fare prodotti meno reagenti, perché devo trovare la variazione di entropia della reazione chimica, quindi sommatoria della variazione di entropia dei prodotti meno quella dei reagenti, e trovo praticamente la variazione di entropia nella formazione di ammoniaca, che è di circa meno 198,53 Joule fratto Kelvin. Visto che la variazione di entropia è negativa, nella reazione il disordine delle molecole diminuisce a scapito di un aumento del disordine dell'universo, con emissione di energia, che vuol dire che se prima delle reazioni chimiche le particelle avevano un alto grado di libertà e poi dopo la reazione chimica sono più ordinate, quindi hanno un più basso grado di libertà, l'unico modo affinché questo possa avvenire è che ci sia più disordine all'esterno dell'ambiente, e questo disordine avviene emettendo calore dalla reazione verso l'ambiente esterno, e quindi la reazione di sintesi dell'ammoniaca è esoenergetica, emette calore. Quindi se ΔS è negativo, la reazione chimica è esoenergetica, altrimenti al contrario è endoenergetica. Questo è solamente un estratto della mia lezione completa sulle reazioni chimiche. Nella reazione completa parleremo del bilanciamento tra i reagenti e i prodotti di una reazione chimica, parleremo del concetto di entropia che possiamo avere all'interno dei sistemi e che si manifesta durante le trasformazioni fisiche e chimiche, parleremo del lavoro svolto di una reazione chimica e di come si calcola, e vedremo la differenza che c'è tra reazione chimica esotermica ed endotermica. Potete trovare tutto questo e tanto altro nella lezione completa di chimica, la numero 7, sulle reazioni chimiche, che potete trovare sul mio canale YouTube e sulle mie pagine Instagram e Facebook, Prof. Antonio Lo Iacono. Grazie.